Siamo con Mattia Gennari, difensore centrale del Montevarchi. Non è un momento semplice per voi? No, non è un momento semplice, ma sono passate quattro partite, quindi c'è da stare calmi. Lavoriamo molto e bene durante la settimana, anche se per adesso i risultati non stanno dicendo altrettanto. Però è anche vero che abbiamo fatto quattro partite, di cui tre fuori casa, su campi molto difficili. Però abbiamo sempre lavorato bene, secondo me anche l'ultima partita a Siena. Abbiamo fatto il nostro dovere, anche se siamo consapevoli che evidentemente non basta e dobbiamo dare di più. È una questione anche di dettagli, probabilmente là davanti qualcosa è mancato. Ma è là davanti, io so dell'idea che quando una squadra prende gol è colpa di tutti e quando non lo fa è colpa di tutti lo stesso. Quindi evidentemente bisogna, noi da dietro per poi passare al centrocampo e l'attacco, arrivare meglio in avanti. Quindi per cercare di aiutare i nostri attaccanti. E l'arrivo alla Fermano, una squadra che è stata ripescata, che però ha avuto un abbrivio di campionato sicuramente positivo. Sì, è partita abbastanza bene, ma noi guardiamo sempre noi stessi, sappiamo, ripeto, come lavoriamo e speriamo di portare a casa una vittoria sabato. Che partita ti asperti? Ma sicuramente combattuta. Con una partita avendo giocato anche a fermo so che mentalità ha, quindi sarà una partita molto combattuta. C'è una vecchia legge nel calcio che il go dell'ex arriva puntuale. Ma chi segna, segna, basta che portiamo un risultato a casa.